È partito un po' di anni fa parlando di disinfestazione del terreno per poter fare delle cose straordinarie, forse eravate molto in anticipo, prego se è comodi, abbiamo inventato qualcosa oltre all'orticoltura? Noi abbiamo messo sul mercato una macchina che serve per disinfettare i terreni che è basata sull'utilizzo del vapore, nata principalmente, come ha detto Angelini, nell'orticoltura, quindi nella quarta gamma, eccetera. Stiamo trovando e cercando di trovare soluzioni che possano entrare anche nel frutteto e nel vigneto e quindi distribuire il vapore all'interno dell'interceppo e nel rimpianto dei frutteti o dei vigneti per preparare il terreno, essere pronto ad raccogliere la barbatella e quindi avere un terreno più sano, senza utilizzare prodotti chimici, nel senso che usiamo vapore principalmente con un apporto di una reazione isotermica che è calceviva, ma la calceviva è un ossido che si trasforma poi in idrossido, in carbonato e quindi ritorna a essere un sasso.